su tutto, di natura attiva no, la ciliesi con la ciliesi no, no, no le ciliesi che danno? no, no, no sai, no, perché la ciliesi è natura io non sto attenziva a che forme c'è molto la testa va bene, riguarda alla fine la porta la malva, sa che tu dite no, si sbarcaglie